In primo piano Con le relazioni, la discussione generale e la votazione di due articoli della finanziaria ha preso il via l'esame della manovra 2012. Nella seduta del 17 aprile è iniziata la discussione del pacchetto finanziario della regione Piemonte partendo dal disegno di legge numero 169, legge finanziaria per l'anno 2012, licenziato a maggioranza dalla prima commissione lo scorso 9 marzo. L'esame dei documenti finanziari è proseguito nella seduta del 18 aprile.